Andiamo indietro Allora, ragazzi, tu stai facendo già la pelle Stiamo a guardare Stiamo a guardare fuori i fatti e sicuramente vita punto Grazie a tutti. da in là, contorino ragazzi ogni volta che contrucchiamo tutti con il testo a sinistra facciamo dopo a sinistra facciamo dopo 1 2 abisciato bene 3 4 4 5 6 7 7 7 8 9 10 8 ok cambio 3 4 5 6 6 7 8 9 7 1 8 9 6 4 4 4 6 6 8 9 8 9 10 6 7 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 3 5 6 6 9 8 10 11 11 11 11 11 11 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 17 15 15 15 16 17 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 25 25 25 25 Sì, ce l'ha fatto che il tuo errore Ancora! Sì! 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 In rischi Sì! In rischi In rischi In rischi In rischi Ancora! Mi traiň Percั่ci In rischi 3 6 7 8 7 10 8 9 10 10 11 12 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 24 25 25 25 22 22 22 22